Grazie a tutti. E' spesso. Eh, lo so. Vai, buongiorno. Tanta roba in SCQR, che sta per sono conci questi romani. E poi, tutto in ritardo, l'unica cosa che funziona in Italia sono i treni in arrivo, che sono puntuali. Per cui, non ci facciamo scappare questa bella occasione di salutare i nostri grandi amici. Marco e Dario. Marco Capretti e Dario D'Angiolillo. E' bravo. Noi parliamo un po' meno rispetto di di sera, perché sui 7.45 è da elementari che io non mi sfigliavo i 7.45, quindi fate voi un calcolo di quanto potrebbe essere. Quindi, comunque, siamo molto felici. From Made in Sud e From Polonare. Io non so svegli, mi sto a dormire ancora. E' partito? Oh, Dario, insegnaci un po' quel passo lì, dai, come si fa a faggare. Ecco. La mattina è importante perché ti aiuta a incunciare bene il lavoro dell'intestino. La maglia è bellissima. E' sorpresa a ballare. Bellissima. Il ricordo di Barletta. Ehi, raga, come siete stati accolti dalla città di Barletta? Vabbè, Barletta, dicevo nel video precedente, già mi aveva accolto diversi anni fa, quindi benissimo. Abbiamo mangiato benissimo. Il pubblico era carinissimo. Abbiamo dormito benissimo. Adesso il problema è il treno. Ci saranno un miardo di persone che saremo... No, vabbè, penso che ci avete il posto di riservato. Ah, sì, ci abbiamo i posti riservati in stiva. A noi ci imbarcano. Io sono la cucchetta. Io sto nella carrozza animale in quanto caprenti e veniamo a vedere e ci vediamo al Bioparco di Roma. Io spero di rivedervi al più presto perché è stato veramente bello. Siamo stati veramente bene ieri sera. La gente è piaciuta tantissimo. Ho visto che... Partecipavo. Ecco. Un saluto al grande. Siamo pronti. Ciao Roby. Grazie a voi. Siamo pronti per andare. Comunque, Barletta a destra. Barletta a destra. Beh, ragazzi, vi auguriamo il meglio del meglio. Buon estate. Ci vediamo la prossima estate. Grazie, grazie a voi. Buon estate. Un saluto a Francesco perché stasera c'è i camaleonti. Allora, le camaleonti. Allora, ci guarda. Secondo me vengono incartonati stasera. Penso io c'ho i grigietti a casa di camaleonti. E abbiamo fatto com'è? Il grigietto camaleonti. E poi, Francesco, dobbiamo dire che abbiamo il 29. Il 29 è una bomba. C'abbiamo Battista. Abbiamo Maurizio Battista. Maurizio Battista. È un grande, no? Noi, Maurizio, come lo possono venire? Lo stipiamo nel carico del sale, no? E non è caso. Sono comici questi romani. Salutiamo un buongiorno particolare oggi con due grandi personaggi. veramente con due personaggi che mi hanno fatto sorridere, che non sorridevo da tanto. Grazie, grazie. E Dario. Barlit. Barlit. Barlet. E adesso. Ciao, buongiorno a tutti.